Ogni giorno milioni di persone affrontano ritmi intensi e frenetici. Ecco perché ognuno di noi desidera comfort. Sempre. Ariston Thermo è sinonimo di comfort termico ad alta efficienza. Il nostro impegno è migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo, nel rispetto dell'ambiente e delle comunità. Siamo una realtà mondiale leader nel riscaldamento dell'acqua e degli ambienti domestici, commerciali e industriali. Da oltre 85 anni, con i nostri marchi globali e regionali, meritiamo la fiducia dei nostri clienti. Siamo consapevoli dell'importanza dell'efficienza energetica, tanto da averla posta alla base della nostra strategia per una crescita sostenibile. Per questo diamo la massima priorità al rispetto dell'ambiente, realizzando soluzioni studiate per conciliare il massimo benessere con il minimo consumo energetico. Grazie a un'innovazione continua, miglioriamo l'esperienza dei clienti con i nostri brand. Aumentiamo l'efficienza dei nostri prodotti tradizionali. Studiamo soluzioni che utilizzano fonti di energia rinnovabili. Siamo tra i leader mondiali anche nella produzione dei componenti. Il nostro DNA è Quality Made of Passion. Quattro sono le aree di intervento di Ariston Termo sulla qualità che concorrono alla soddisfazione del cliente finale. E al centro di tutto ci sono le nostre persone, che costituiscono uno dei principali valori del gruppo. Valori concreti e duraturi che continuano a orientare il nostro percorso di crescita. Integrità Persone Eccellenza Clienti E sostenibilità E sostenibilità sono i principi a cui ci ispiriamo per far progredire l'azienda verso l'eccellenza. Noi siamo Ariston Termo e offriamo comfort ad alta efficienza energetica, ogni giorno. E sostenibilità E sostenibilità E sostenibilità Grazie.